Che hai fatto per far arrabbiare tanto Mr. Peake? Io temo di avergli venduto un tappeto di lana costoso fatto con la pelliccia del sedere di molte puzzole. Quello è Mr. Peake? No! E quello? Allora è lui? No! Ho capito! Fa silenzio, fa silenzio, fa silenzio! Mr. Peake, signore, è stato un semplice... Sì, ecco. Ma è stato un semplice malinteso. Vieni qui senza invito nel giorno del matrimonio di mia figlia. Beh, in realtà ci hanno portato con la forza, perciò... Il punto è che non sapevo fosse la vostra auto, né che fosse il matrimonio di vostra figlia. E io mi fedevo dei beni, chi? Tu sei stato accolto in casa mia, hai mangiato la mia tavola, la nonna ti ha preparato i cannoli. E tu come ricambia la mia generosità con un tappeto fatto con le chiappe di una puzzola. Un tappeto di chiappe di puzzola. Mi hai mancato di rispetto. Hai mancato di rispetto a me nonna che ho seppellito del tappeto di chiappe di puzzola.